Nella mia vita, avendo lavorato molto, ho trascurato il mio lato femminile. Tu sei fidanzata? Io sì, da otto anni, con un uomo più giovane di me di dieci anni. Lui cresce ed io invecchio. Mi spaventa il fatto che la nostra storia potrebbe diventare un po' noiosa. Hai bisogno di rinnovare qualcosa, hai bisogno di uscire un po' dalla routine. Io ho bisogno di modificarmi, se possibile, meglio. Proviamo a vedere l'indagare qual è il tempo che Camilla dedica al suo piacere. Non mi sono mai resa conto che effettivamente non c'è tempo per me e per il mio compagno. Anna e Lisa sono maestre di cucina erotica. Ecco. La cena è pronta, andiamo a vedere come degustà. Innanzitutto imboccandosi a vicenda. L'ho dovuto fare.